I 101 dipendenti di Formula Ambiente di nuovo a rischio stipendio temono anche la cassa integrazione. All'indomani dell'Assemblea Generale svoltasi nella sede di Formula Ambiente di zona Santa Filomena a Chietiscalo, nel corso della quale i sindacati hanno illustrato ai lavoratori i risultati dell'incontro avuto il giorno precedente con Nicola della Corinna, delegato del Consorcio di Cesena, che dallo scorso gennaio si è assicurato il nuovo appalto sulla gestione dei rifiuti in città, il segretario provinciale della FP CGL Giuseppe Rucci spiega i timori nati in seguito a tale incontro. Oggi purtroppo preoccupa che la situazione che pensavamo potesse essersi risolta continua a essere preoccupante rispetto ai rapporti tra Formula e il Comune di Chieti. La direzione ci ha comunicato che ad oggi sono preoccupati del fatto che il Comune non rispetta gli impegni assunti, rispetto agli oneri che deve girare a Formula e questo probabilmente potrebbe creare problemi sul pagamento delle retribuzioni correnti. Sotto questo punto di vista è chiaro che noi continuiamo a essere preoccupati, abbiamo ritenuto immediatamente di informare i lavoratori ed è chiaro che c'è molta preoccupazione, molto disagio e molta amarezza, perché questa è una situazione che non vivevano da tanto tempo e quindi noi teniamo monitorata la situazione ad oggi. C'è un rischio di cassa integrazione per i dipendenti? Il fatto che l'azienda non abbia formalmente ritirato la procedura, chiamiamola di cassa integrazione, quindi di uno strumento di ammortizzazione sociale, è la certificazione che anche loro non sono probabilmente fiduciosi sugli adempimenti rispetto al Comune. E il fatto di mantenerla in essere, da un lato in qualche modo può essere una garanzia per i lavoratori su un'eventuale perdita di salario qualora la situazione dovesse precipitare, ma dall'altro continua a essere una spada di damo che è la certificazione di una situazione ancora purtroppo non risolta. Ci sono delle schiarite invece per quanto riguarda le altre società partecipate del Comune di Chieti? Per teate e servizi stiamo aspettando ancora la nomina dell'amministratore, tutta una serie di impegni che erano stati in qualche modo presi davanti al prefetto e per Chieti Solidale siamo anche qui in attesa di un incontro con l'azienda per poter fare tutta una serie di ragionamenti sul piano industriale, piante organiche e quant'altro. Quindi ignoriamo la situazione e attendiamo naturalmente sviluppi per quello che riguarda gli incontri sindacali che a breve andremo a svolgere. Grazie a tutti.